Ciao XIGI, benvenuti in un nuovo video! Oggi siamo qui per fare l'ultimo video in programma dei video assaggi se avete siti, anche se già ho in mente di fare una nuova rubrica insieme che è sempre magna magna, poi la panza cresce, ma in estate la togliamo e quindi iniziamo questo video assaggio devo dire che questo può sembrare l'ultimo video banale c'è una cosa, c'è una cosa io inizierei dal dolce banale, che poi banale non sarò eccolo qua, della Jan 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 Jan, che sarebbe il crostino con la crema al latte il crostino, con la crema al latte della Memegi ecco qui curiosa questo si inzuppa ma è vaniglia vaniglia al latte vaniglia flower ok ottimo vaniglia dove? io assaggiare quella cioccolata erano veramente buoni guarda, sono bene pure i grandi vai, prego sembra però se facevano cioccolato bianco non mi piace la crema wow quella capolata quella cioccolata erano la crema che c'è dentro a quei cose di cupcake non è bella? no non è molto bella no a me piacciono a me lo sai che piacciono? dei tanto questi sono di una dolcezza quante z no no da solo me lo mangio anzi un po' così no ragazzi lo li sono buoni il cioccolato era alla fine del buono la crema all'interno dei ringo pure io lo sento no non so che sembra la crema all'interno dei ringo nyeh diciamo sei top devo dire che in questo video ci saranno molti più snack dolci infatti direi di andare con un altro dolce e poi smistiamo dei salati è piacere di fare con questo ok la Knoppers Herdnus Rigel che dalle ansia di questo ecco qua il gusto peanut butter della Stork Stork che pronuncia se volete invitarmi in Germania io ci vengo senti che profumino mmm Sneakers interessante vai vai mmm 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 no io l'ho salato fuori però è buonissimo questa parte è qui del burro da radini arriva alla parte del burro da radini questo raga lo ha temperato l'ambiente anche se è stato qua dieci minuti fuori è buono è molto buono immaginate immaginalo in inverno morbido è buono questo è buono questo è buono ma l'abbiamo detto pure l'altro era molto buono proprio come Marco è buono abbiamo dato un po' degli altri io darei io darei sette e mezzo sette e mezzo anche io ci sto sono ma se non me lo vorrei dimmi bene ah 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 E' un po' così che la videocamera si spiega Praticamente mi hanno detto, perché sono sempre voi gentilissimi che ti rispondono, ti spiegano tutto eccetera Mi hanno detto che praticamente non fanno parte del... non sono americane, quindi sono gusto pizza Quindi io suppongo che sia cambiato... No, noi pensavamo fosse una nuova... Tipo americana, non ci hanno riformulato qualcosa Invece no, è stato cambiato solo il packaging perché da noi nei supermercati era bianco E' bianco It's back! Pringles pizza Non ce l'è Sì 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 Voi avrete l'istituzione anche la Lo smarino proprio No, un rigano Perché? Però io le sento molto più forti rispetto a quelle... Sì, quelle là non sapevo proprio niente È vero Infatti sì Più aromatica Cioè... Non è tra le mie preferite Non è troppo rigano Le bianche? No Gusto pizza Erano molto più buone Perché erano semplici come sapore Questo è un po' forte Sapevano più di formaggio quelli No, più di... Comodoro, diciamo Questo è proprio rigano Le rigano? No, non è tra le mie preferite No 5 parole Va proprio giusto Ok Ci restano due dolci e un salato Quindi io direi di... Continuare con questa O vuoi fare quella Ecco questa Questa? Questi ho proprio paura io C'è un po' col terrore Diciamo che sono simili a quelle altre là Solo che questa c'è l'aggiunta di mila Allora, questo è lo stesso brand Di quelle là patate e dolci Ok E miele O solo patate e dolci No, no, no Solo patate e dolci Invece questa è qui della Nonogshima Quindi diciamo che è orientale C'è qui tutte le cipolline Honey e apple Eccola qui Twist snack E non ho mai preso una box giapponese A me piace tanto fare quelle cose che devo fare il cibo Che fanno? Un po' più in cookie Come si chiamano ragazzi? Oh Quei cosi che Tutte quelle polverine qua escono al cibo Ma no Ma no Ci fizziamo così Stai di fritto come con le altre Vediamo Si sente proprio con la mela chinga, più che mela, sai che sembra? Quelle banane essiccate, dolci, banane essiccate dolci, lo giuro è il suo sapore, la consistenza è buona, consistenza, forse avrebbe preferito lo sai cosa, quel retrogusto, forse lo sai cosa avrebbe preferito, la versione padre dolci in questo formato, così, però no raga, il miele si sente proprio lontanamente, si sente tantissimo la mela, però non è una mela, non è una mela mela, è una melina, una melina artificialina, vedi è buona la consistenza, ma non mi piace il retrogusto che lascia, vuoi avere la banane, se non sono le banane essiccate, quella è la confezione che io li trovavo sempre, cioè se stanno ancora, non lo occupate più, al Konrad, uguali, non fa per me, è un prodotto che non è uguale, io chiedo, un 5 e mezzo, a te che, diciamo, tu mangi queste cose, tra virgolette, però io non sento, si sente la mela, però poi dopo, forse con il mela, a me, mi sento quello di questo di balana, o perché forse lo associo a quelle, non lo so, devo dire che io chiedo un 5 e mezzo, perché alla fine la broccantezza ci sta, no, ma sono buone, tra virgolette, però non ho incontrato, però sono succhioli tantissimo, ovviamente, perché mela e miele, però sono buone, ragazzi, secondo me, però, tra le due, preferisco l'altro, guardate i dolci, mi sembra miele, ma ricordo, io l'ho bevando, ovviamente, io l'ho bevando, torno in seguito, serve it up, allora, ultimi dammi le nostre, cocotel esotico, limone, lemon, pineapple, e frutto della passione, anche in inglese, passion fruit, passion fruit, mamma mia, il volerò io, comunque ve la mostro, nel dettaglio, andiamo a scuola da scrivere lo svizzero, ok, buono, lo sai che sembra? allora, raga, mi sfugge tantissimo il nome, è quel frutto esotico, rotondo, che mi fa letteralmente impazzire, fuori color rosa, che si sbuccia, e poi bianco, lici, così, eh, cioè, di questo, sai questo sapore, lici uguale, uguale, buonissimo, esatto, vita mia, allora, concludiamo con il salato, però c'è prima il dolce, ovviamente, questa è una novità, perché io non l'ho mai vista, assolutamente, milk, cocco, cocco, cioccolato bianco, e, no, cocco e mandorle, cioccolato bianco, cocco bella, e mandorle, eccolo qui, chissà come, però, questo, secondo me, marchio mille, stacchera, sì, sì, raga, solo novità, sul canale di Giulia Ambrosino, vieni, bella, troppo bello, cocco, prego, essere un po' piede, non riesco neanche a girarmi, prevale tantissimo il cocco, però avrei preferito meno cocco, buonissimo, noi abbiamo assaggiato 7 miliardi di cose, e poi, abbiamo mangiato questa, è buona, quindi immagina, assoluta, no, però, avrei preferito, velo cocco, perché il cocco, praticamente, c'è il cioccolato bianco, che sento, io sento, solo se la mandorla, solo se la chiappi, però, raga, buonissimo, cioè, vabbè, la Milka può, io darei, 8 in 9, 9, sì, poi perché è particolarissima, assolutamente, sì, della X Fox, snack ringolino, ringolino, questa volta, e questa volta, riusciamo a capire il gusto, perché, perché non si fosse perso, il secondo episodio, sì, sì, c'erano due omini, che so, ancora ad oggi, non l'abbiamo capito, perché probabilmente, voi ancora non lo vedete, quindi, nessuno ci può aiutare, potevamo andare anche sul sito, ma, la noia era tanta, ma, la pigrizza, no, la noia, eh, oh, sono più lentiglie, queste, sono delle altre, però, sono, no, sono, sono diverse, come se vede che padre, proprio, non erano così, la papica, è un po', è un po', eh, eh, mi sento, come d'oro, però, ragazzi, questo fornato, di patatine, non è tra le migliori patatine, la patata verde, allora, dopo che ti hai provato, il bbq, eh, non riesci a giudicare le patatine, come si deve, come va? Lo sai, no, c'è questo gusto che sappiamo che è paprica, e l'altro gusto, riferisco l'altro gusto che non so, che cavale è, è meno, credo, erano molto più sfiziose, eh, infatti era una tira l'altra, si, no, queste, è l'aroma della paprica che non, non mi è tanto piaciuto, quello mezzo, quello per me, si, comunque, abbiamo chiuso proprio, abbiamo chiuso proprio bene, eh, forse, forse dopo che abbiamo richiesto i quattro video, il video troppo, e il terzo, si, questo se non fosse per il dente che mi stavo spezzando, ahahahahah, ahahah, ah no, ok raga, anche questo video è andato, noi non vediamo l'ora di registrare altri video insieme, quindi, ci dobbiamo far venire tantissime altre idee, ma raga, mi raccomando, seguitemi su Instagram, su Giulia, mi fitto perché spesso, non dico tutti i giorni, ma quasi, mi lascio i sondaggi, oppure fammi una domanda, che voi siete voi a scegliere le qualcosa che potete vedere video, esatto, quindi raga, mi raccomando, iscrivetevi, cioè, seguitemi è gratis, quindi, noi speriamo che anche il quarto episodio vi sia piaciuto, e noi ci vediamo nel prossimo video, ciao!